Oggi un tipo su un'applicazione per imparare le lingue mi ha segnalata dicendo che ci stavo provando con lui ma non è vero io ero solo gentile ma possibile Ragazzi io non ho parole allora sappiate che se entrate nel gruppo adesso è il caos totale c'è pornografia, gore, cose tremende quindi io per adesso non ci posso fare niente aspettate un secondino si calmano le acque e poi parliamo e quindi appena si calmano un attimo le acque e capisco come gestire la cosa dovrò bannare anche un bel po' di persone vedrete che diventa un gruppo normale, normale Madonna ma perché ogni cosa che faccio è un totale fallimento? Allora a quanto pare hanno bloccato il gruppo per pornografia quindi adesso lo rifaccio ci installo un bot prima cosa prima di tutto perché sono cretina e non ci ho pensato e poi vi rinvito scusate Ok ragazzi più o meno ci siamo io ringrazio un sacco le ragazze che gestiscono le mie fanpage che mi hanno dato una mano comunque vi lascio il link vi prego non fate casino non fate casino che se no mi tocca bannare tutti grazie Io non ne voglio più sapere niente io allora io il gruppo lo abbandono adesso nel senso lo mollo lì torno domani e deve essere tutto in ordine mi avete rotto le palle cazzo Sì lo so ragazzi che non vi fa entrare perché vi dice che è bloccato per pornografia però vi giuro che io al momento non ci posso fare niente perché in quel gruppo al momento vige l'anarchia più totale quindi aspetto che sia domani e vedo di risolvere in qualche modo vorrei concludere chiedendo umilmente perdono a tutti quanti quelli che sono entrati e si sono beccati le cose sanguinolente e pornografiche mi dispiace un sacco è che io sono una che fa le cose alla cazzo di cane e quindi ecco eh scusa